qui con Martina Bracchi, MVP della partita tra Casal Maggiore e Busto Arsizio. Martina, era importante vincere, era importante risalire la classifica, una grande vittoria soprattutto su un finale tesissimo punto a punto. È stata una partita difficilissima e sì, era importantissimo vincere sia per la classifica ma anche per noi come squadra. Adesso abbiamo trovato il nostro gioco, come si è visto anche nella scorsa partita, cercheremo di tenerlo il più possibile. Ecco, era importante trovare l'identità, era importante avere punti e continuare a cavalcare l'onda di un momento positivo per voi. Sicuramente cercheremo di continuare a cavalcare l'onda, ci sorveremo sopra e cercheremo di tenere il nostro gioco il più possibile. Grazie Martina, congratulazioni. Grazie a voi.